buongiorno a tutti eccoci qua con un video un po inedito perché non è una diretta ma è un video che poi metterò nei miei canali perché quello che voglio condividere con voi qualcosa di molto molto importante che ci porterà a fare delle riflessioni profonde su quello che su quello che siamo su quello che facciamo e su quello che noi vogliamo ottenere la nostra vita ieri sono stato partecipato a un evento della mia azienda era presente direttamente dall'america il nostro presidente black mullen che ha fatto una serie di riflessioni su quello che è il momento che stiamo vivendo di come sta cambiando il mondo di come era il mondo di come sarà il mondo e lui ha parlato di due aspetti che di due elezioni importanti che il che la pandemia che il coronavirus hanno insegnato a tutto il mondo e poi io ne aggiungo altre tre perché ho riflettuto queste è vero sono molto importanti ma ce ne sono altre tre che sono altre tre che sono fondamentali anche queste sono molto importanti è ovvio che magari ce ne saranno tante io ne ho diciamo evidenziate cinque due le ha evidenziate lui le altre tre le ho evidenziate io le ho diciamo stato frutto di una riflessione su quello che ha detto e su quello che anche il mio momento quello che sto passando in questo momento quello che sto vivendo è in virtù di quello che voglio fare ok qual è la prima grande lezione che ci ha insegnato il coronavirus la prima grande lezione è che la salute è molto importante abbiamo visto che questa pandemia ha messo in discussione i sistemi la diciamo lo stile di vita di molte persone che hanno dovuto cambiare le loro priorità in virtù della salute i grossi cambiamenti sono stati proprio fatti in virtù di preservare la nostra salute quindi la prima cosa è che la salute è importante la salute è prima di tutto per diciamo a causa del coronavirus sono stati bloccati tutti i sistemi tutti i sistemi di economici di relazioni per preservare ovviamente questo bene primario della salute il secondo aspetto che ha evidenziato black manlen è quello di un sistema di sopravvivenza finanziaria la pandemia il blocco che ha portato in praticamente la maggior parte dei paesi del mondo ha messo a dura prova quelli che sono i sistemi di sostentamento di sopravvivenza perché tutto si è bloccato le attività tradizionali sono bloccate e alcune attività sono ancora bloccate adesso quindi è fondamentale avere un sistema di sopravvivenza finanziario a prova di blocchi a prova di crisi a prova di anche lui diceva prova di virus è vero che magari un qualcosa come è successo adesso non succederà più però comunque l'evoluzione sta portando dei cambiamenti radicali in tutti gli aspetti della vita e soprattutto nel business quindi a oggi devi chiederti se dovesse succedere un'altra volta un altro blocco se la tua sopravvivenza finanziaria è ok quindi stanno nascendo tante forme diverse il lavoro da casa o i lavori su internet che ormai come dico sempre non è per via della pandemia che molte attività sono spostate online è per via della dell'evoluzione tecnologica le persone non sono più andate a comprare negozi ma hanno comprato su internet ma questo probabilmente sarebbe successo perché per via della globalizzazione comprare su internet è molto più conveniente rispetto a comprare magari nel negozio sotto casa e questo non deve creare non deve creare rabbia non deve creare comunque opposizione resistenza se oggi è un'attività tradizionale che vendi al pubblico incomincia a pensare che magari sono modi diversi sempre di essere a contatto quindi avere un'attività commerciale ma la puoi anche spostare magari sul web quindi primo punto la salute è importante secondo punto è che bisogna avere un sistema di sopravvivenza a prova di blocchi il terzo punto che è molto collegato agli altri due è quello della globalizzazione la cosa che ci ha insegnato è che questa pandemia è stata a livello globale cioè non ha interessato solo l'italia non ha interessato solo la cina non ha interessato solo gli stati uniti è interessato tutto il mondo all'inizio io mi ricordo che quando ci sono stati i primi casi in cina molti di noi anch'io stesso abbiamo pensato ah ma intanto in cina non mi interessa non vado in cina non frequento cinesi e mi salverò non è vero perché oggi nell'era della globalizzazione dell'interconnessione siamo tutti interconnessi quindi quello che è nato in cina si è nato in cina non so neanche questo se è vero si è diffuso in tutto il mondo quindi oggi nell'era della globalizzazione devi sapere che non vivi più isolato nel tuo paese nella tua città ma vivi a livello globale anche grazie alla tecnologia tu puoi fare affari in tutto il mondo cosa che prima invece potevi solo fare affari nel quartiere il quarto aspetto che ha che ha toccato che secondo me ha diciamo evidenziato la crisi e ci ha insegnato a grande lezione sono le relazioni le relazioni questa pandemia ci ha messo in condizione di cambiare il nostro modo di relazionarci con le persone sono persone che sono state costrette a vivere insieme e ci sono state persone invece che sono state costrette a vivere lontane e questo ci porta a riflettere sulla qualità delle relazioni che abbiamo creato se siamo andati in crisi perché siamo stati siamo stati costretti a stare a contatto con delle persone con le quali magari non avevamo delle buone relazioni ragioniamo su questo e prendiamo magari delle delle precauzioni prendiamo delle soluzioni per quello che sarà il nostro futuro stessa cosa se la nostra vita è stata messa in crisi dal fatto che non abbiamo più potuto relazionarci in maniera fisica con le persone anche questo ci porta a fare una riflessione per prendere decisioni e azioni diverse nel futuro e il quinto aspetto è la che non esiste secondo me non esiste l'assoluto tutto è relativo perché abbiamo visto come le persone hanno reagito in maniera diversa alla pandemia sono delle persone che sono andate in crisi profonda sono delle persone che non sono state toccate sono delle persone anzi che hanno preso spunto e hanno migliorato la loro vita grazie al coronavirus sia dal punto di vista di relazioni sia dal punto di vista della salute perché persone hanno deciso di cambiare durante la pandemia persone che sono state bloccate dalla paura e persone che hanno deciso di cambiare persone alle quali non è stato diciamo non hanno ottenuto nessun cambiamento nella qualità della loro vita e anche dal punto di vista del business qui si parla tanto di crisi e si è visto che aziende durante la pandemia sono andate in crisi anche grosse aziende sono grossi gruppi la hertz victoria secrets aziende che hanno dovuto fare dei tagli profondi e mentre ci sono aziende che hanno invece aumentato i loro fatturati hanno creato ancora più ricchezza quindi niente assoluto tutto è relativo detto questo detti questi questi cinque aspetti queste cinque grandi lezioni che ci ha insegnato il coronavirus questa pandemia io vi invito a fare una riflessione profonda per fare in maniera tale di non essere più impreparati se dovesse succedere di nuovo un qualcosa come è successo adesso e quindi primo la salute molto importante curate la propria salute prendete delle decisioni che vi permettono di migliorare la qualità della salute quindi in termini di alimentazione in termini proprio di come curate il vostro corpo l'attività fisica il come curate le vostre relazioni legata anche al secondo punto cercate di avere un business un'attività finanziaria un sostitamento finanziario a prova di di blocchi qualcosa che vi permetta di vivere bene anche se si dovesse bloccare di nuovo il mondo e poi ovviamente ricordatevi che non è niente assoluto tutto è relativo in base alle decisioni che voi prendete in base alle azioni che fate e l'altra cosa l'ultima molto importante è che non viviamo più in un piccolo spazio siamo interconnessi e quindi viviamo veramente in un mondo di infinite possibilità e sapere diciamo essere consapevoli di questi cinque aspetti che sono fondamentali potrebbe veramente aiutarvi a cambiare o a migliorare la qualità della vostra vita quindi lasciate un commento qua sotto voglio sapere se anche voi avete condividete quello che ho detto e voglio anche sapere che cosa fate voi per migliorare la qualità io vi dico che come sapete da tempo ha cominciato curare la mia salute sia dal punto di vista dell'alimentazione sia dal punto di vista della dell'attività fisica e di quello che è la cura di me quindi la lettura o comunque quell'equilibrio mente corpo e spirito che è un business a prova di crisi il mio modo di lavorare è cambiato durante la pandemia prima facciamo 20 live siamo passati online e adesso praticamente la nostra attività è praticamente online ma continuiamo con le relazioni perché continuiamo a incontrarci con le persone e se dovesse succedere io mi auguro di no la mia attività comunque andrà avanti ed è un'attività tra l'altro che ha posso espandere in tutta in tutto il mondo lo posso far comodamente da casa con un cellulare posso utilizzare al meglio il mio tempo e il mio spazio bene spero che questa condivisione questa riflessione sia stata utile a tutti voi quindi vi mando un saluto e vediamoci prossimamente su questi canali se volete aggiungere qualcosa se volete approfondire qualcosa io sono qui a presto e ciao a tutti